Io e te, il programma condotto dal buon Pierluigi Diaco su Raiuno, sarebbe stato sospeso per un sospetto caso di Covid-19, di coronavirus, nel personale. E pensate che addirittura è scattato anche il tampone per il buon Pierluigi Diaco, il conduttore. Infatti vi ricordo che si è ricato all'Istituto San Garicano di Roma, ubicato al quartiere Euro, dove si è sottoposto a un tampone ma anche a un esame sierologico. I risultati dovrebbero essere noti nel Pomerigio. Il giornalista conduttore si è sottoposto agli esami dopo che la trasmissione è stata sospesa grazie ad un caso di positività proprio nel gruppo di lavoro del programma in questione. Una persona che lavora nel programma ha avvertito la Rai della propria positività e scattato il protocollo provvisto dalla Task Force Anti-Covid dell'azienda che prevede proprio la sospensione della trasmissione per consentire i controlli su tutte le persone entrate in contatto con la persona positiva ed evitare nuovi eventuali contagi. Pierluigi Diaco si collegherà alle ore 14 da casa sua con la vita indiretta estate che si allungherà in questi giorni partendo o meglio andando a prendere anche lo spazio dedicato proprio a io e te. Il programma che è stato condotto e che è condotto da buon Pierluigi Diaco. Grazie a tutti il video termine. Un saluto caro da Rai e una rotta italiana.